Siamo la vera novità del centrodestra, un partito che cresce, che si radica sul territorio e che ora mette in campo il meglio sia al comune capoluogo che all'amministrazione provinciale. Liste forti e candidati battaglieri. Così Arturo Giannacone, leader dell'MPA, ha presentato liste e candidati in Irpinia del Movimento per l'Autonomia. Bagno di folla per il partito di Lombardi nell'incontro che si è svolto all'Hotel della Ville. Giannacone ha chiesto agli alliati di mettere da parte le polemiche e di remare nella stessa direzione. L'Udc ha detto che è stato sempre un partito dell'orbita di centrodestra e che ad Avellino sia parte integrante dell'alleanza non mi pare una novità. Piuttosto, ha ribadito l'onorevole Giannacone, siamo noi dell'MPA la vera novità del centrodestra. Vedrete, ha detto ancora, il nostro sarà un contributo determinante. Quanto all'alleanza con De Mita, Giannacone ha precitato, se De Mita sceglie il centrodestra e lascia il centrosinistra, allora è evidente che c'è sotto un processo di autocritica.